Oggi siamo dalla parte di chi guarda oltre. Siamo con gli irriducibili che hanno lo sguardo sulla meta, non sugli ostacoli. Siamo con tutti gli ostinati che lavorano duramente per allenare la volontà a non arrendersi e a conquistare sempre di più, anche quando a tutti sembra impossibile. Perché la loro visione è più larga delle loro spalle. Siamo dalla parte di chi non si arrende e quando fallisce, fallisce ancora. A quel punto sa cosa bisogna fare per vincere. Forse perché la forza che hanno dentro è più forte della paura di non farcela. O forse, semplicemente, perché riescono a vedere più in là degli altri. Oggi siamo dalla parte dei coraggiosi. Perché solo chi non teme di andare oltre è veramente capace di superarsi. Oltre i limiti. Oltre i luoghi comuni. Oltre le barriere. Oltre le difficoltà. Oltre le parole. Gruppo Mediobanca è partner del Comitato Italiano Paralimpico per andare oltre.